Questo corso è rivolto a chi pensa di non cavarsela in cucina. Noi diamo tante raccomandazioni alimentari e poi la gente dice però ma è, ma come si fa? Noi non abbiamo tempo, è molto ridicolo perché la gente dice che non ha tempo, ma pensate un po', ci sono 24 ore nel giorno, 8 ore lavoriamo e rimangono ancora 16 ore, 8 ore dormiamo, rimangono ancora 8 ore e certamente che se spendiamo queste 8 ore a guardare i show cooking in televisione non avremo tempo per cucinare e neanche per fare attività fisica. È rivolto molto a chi ha voglia di cambiare, ci ha provato ma non è riuscito a fare delle cose veramente appetitose. Questo corso vuole mostrare che il cibo sano, il cibo che fa bene alla salute, che previene le malattie croniche è anche gastronomicamente molto buono e quindi mostrando come si fa può essere un aiuto. Provateci e se la prima volta non mi viene bene riprovateci, mi verrà bene. Assicuratevi che gli ingredienti che utilizzate siano di buona qualità.